Durante la notte di Halloween saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine, questo per evitare, come è accaduto in passato, eccessi dovuti all'abuso di alcol. Saranno anche monitorate le strade maggiormente a rischio per scongiurare incidenti provocati per la maggior parte dalla guida in stato di ebrezza. Insomma, il sindaco Conte è chiaro e lancia un appello ai giovani. È fondamentale non mettersi alla guida magari in condizioni di non lucidità che possono essere adattate dagli alcolici, per esempio, ma anche i comportamenti che si possono tenere alle feste, nelle feste che siano private o in ambiti pubblici, quindi legate magari a litigi, a schiamati. Insomma, cerchiamo di dare dimostrazione di responsabilità. Si può festeggiare tenendo la testa sulle spalle, spiega ancora il sindaco. Dopo la pandemia è tanta la voglia di tornare alla normalità, ma senza eccedere. Ovviamente i controlli ci saranno perché se tra tante persone qualche maleducato o qualche spregiudicato si lascerà andare a dei comportamenti che non vanno bene, ovviamente ci saranno le forze dell'ordine pronte di intervenire. Poi aggiunge Ognuno di noi è responsabile dei propri comportamenti a 360 gradi e oggi ancora di più, però io continuo a essere un sostenitore dei giovani, quindi la mia fiducia nei loro confronti è assolutamente totale. Il sindaco si dice convinto che i giovani sapranno festeggiare e incontrarsi senza creare problemi e rispettando se stessi e gli altri.